con valore D di 5.20 poi nel secondo uno Yurchenko 2.5 5.20 anche per questo secondo volteggio ecco Nicola bravo a fermare grandissimo stoppata casa mazzotesu con un avvitamento e mezzo due avvitamenti e mezzo per lui dopo lo stacco dalla tavola e sempre andiamo ad apprezzare la tenuta del corpo piccolissima divaricata all'inizio del salto e poi con grande precisione a fare i due avvitamenti e mezzo un salto a mio avviso da un decimo per il balzo in avanti molto piccolo sì ma è un 14.666 adesso deve confermare questo valore nel secondo salto abbiamo detto uno Yurchenko 2.5 grande tifoso del Cagliari appassionato di animali non cane Cesare bravo Nicola fermo Nicola così va bene bravo bravo Yurchenko teso due avvitamenti leggero sbilanciamento soltanto con le spalle ma i piedi non si sono mossi al momento dell'arrivo della zona prevista per gli arrivi e Nicola come sempre adesso l'apprezzeremo a rallentatore nella seconda fase grazie a tutti